I cinque tratti di costa in cui è suddiviso il litorale di Agropoli hanno una classificazione del mare eccellente e non presentano limiti per la balneazione. È quanto emerge dalla classificazione delle acque di balneazione per l'anno 2022 approvata dall'Aggiunta regionale della Campania sulla base delle indicazioni fornite dall'ARPAC. L'Agenzia regionale per la protezione ambientale durante la stagione balneare monitora costantemente il mare campano in modo da verificarne lo stato di salute. Sulla base dei dati dell'ultimo triennio poi l'Aggiunta regionale provvede alla valutazione e classificazione delle acque di mare destinate alla balneazione secondo i criteri stabiliti dalla normativa in vigore. Per Agropoli, le cui spiagge da anni sono premiate anche con la bandiera blu della FE, ancora una volta non sono emerse criticità. Anche per il 2022 la costa agropolese ottiene il massimo della classificazione, un risultato positivo raggiunto anche grazie alle nostre politiche ambientali e ai controlli più rigidi fatti sui corsi d'acqua che grazie anche alle associazioni locali vengono monitorati. Con attenzione spiega l'assessore all'ambiente, Rosa Lampasona, soddisfazione è stata espressa anche dal sindaco Coppola, un risultato che ci aspettavamo ma il lavoro da fare ancora tanto per la nostra costa. Dobbiamo investire soprattutto per implementare i servizi ma abbiamo l'obbligo anche di dare una risposta definitiva al problema della posidonia spiaggiata. L'iter per la rimozione non è semplice ma una volta ricevuto il finanziamento regionale ci siamo messi immediatamente in moto per poter avviare gli interventi di rimozione della posidonia prima dell'avvio della stagione balneare. È un lavoro complesso con un iter non agevole e costi notevoli ma la questione non può più attendere.